Noi, il governo Berlusconi 2001-2006, l'abbiamo tagliato il numero dei parlamentari, poi la sinistra ha fatto il referendum per abrogarla quella decisione. Allora, il governo Monti, per quello che ci riguarda, è drammatico. Il governo Monti aveva promesso rigore, equità e sviluppo, niente sviluppo, niente equità perché questo paese si sta impoverendo e non c'è equità se il paese si impoverisce, molte tasse in più, molte tasse in più, potendo contare sull'appoggio delle due maggiori forze politiche che non si è mai registrato prima, quindi non ha avuto bisogno del consenso degli italiani e neanche consente di parlare, non sono promesse, l'unico governo che ha abbassato la pressione fiscale è stato il governo Berlusconi, questo è un dato, non si è mai registrato che scendesse la pressione fiscale con gli altri governi e su questo noi ci rimettiamo alla prova del voto degli italiani.